Il Ministro della Cultura d'Albania è stata ricevuta nei giorni scorsi a Palazzo Laskaris dalla Vice Presidente dell'Assemblea, Daniela Ruffino. Tema dell'incontro, la possibilità di organizzare iniziative congiunte, anche attraverso la consulta europea, per saldare i rapporti culturali con la comunità del Paese delle Aquile, che in Piemonte conta oltre 45.000 residenti.